All'interno del B-Book questa settimana in Biblioteca Rogadeo qui a Bitonto abbiamo ospite Viviana Guarini, autrice del libro, del suo primo romanzo. Perché l'hai intitolato così? L'ho intitolato, non dirlo al cuore, perché in realtà è un titolo provocatorio, che sta proprio ad indicare tutto quello che noi non raccontiamo a noi stessi per evitare di affrontare determinate dinamiche, emozioni e sentimenti. Quindi diciamo che è una negazione provocatoria. Senti, è il tuo primo romanzo. Come mai ti è venuta l'ispirazione di scrivere? Cioè, molti decidono di scrivere, però tu come hai scelto questo tipo di lavoro? Allora, intanto è una passione, per me non è un lavoro. Io ho sempre scritto, sin da quando ero bambina, chiaramente decidere di scrivere un romanzo è un po' più impegnativo, per la pazienza che ci vuole anche a lavorare sui profili dei personaggi. È nato durante una mattina di primavera dell'anno scorso, in cui ero seduta nel porticciolo di Bari. Ero in pausa pranzo, ho visto questa barchetta di nome Sessa parcheggiata nel porticciolo e ho iniziato a fantasticare, a prendere appunti. Questo piccolo atteggiamento è continuato per un po' di giorni, fin quando ho iniziato a pensare che sarebbe potuto diventare un romanzo e alla fine così è stato. Senti, solitamente gli autori mettono molto di loro nei primi libri o nelle prime stesure. C'è molto di te in questo libro? Ovviamente sì, è nascosto nei personaggi, quindi è difficile rintracciare poi quale sia. Ci sono sicuramente anche delle parti inventate. Ovviamente è un romanzo che affronta delle tematiche come quella dell'amore, del dolore, della fine di una relazione, anche del lutto. Diciamo è impensabile che non siano anche strettamente legate al modo di vivere dell'autore e poi quindi della voce narrante. Quindi assolutamente sì. Però ci devi dare una ciliegina adesso che hai detto questa cosa. Ci sono dei personaggi o qualcosa che fa riferimento? Dicci chi fa riferimento a te. Ma io credo di essere un po' in tutti i personaggi, a dire la verità. Forse c'è qualcosa di mio anche nei personaggi maschili, perché ci sono dei personaggi maschili. Probabilmente la voce narrante è quella che più si avvicina, diciamo, a me. Però c'è un pezzetto di me in ogni personaggio, sicuramente. Non dirlo al cuore, ma bisognerebbe dirlo o invece basta tenerlo nascosto giusto per evitare sofferenze inutili? Ovviamente bisognerebbe dirlo perché tutto quello che noi non raccontiamo al nostro cuore finisce sotto il tappeto e questo crea molta polvere e non ci permette di vivere noi stessi e gli altri in maniera autentica. Vivremmo molto meglio se imparassimo a raccontare noi stessi anche le cose che ci spaventano. Per cui tu hai ancora qualche piccolo granellino di polvere che devi togliere via? Questo sì, ma penso che sia un percorso inesorabile che dura una vita intera, imparare a togliere tutti i granelli di polvere. Un granello alla volta, pian piano, diciamo, ce la si fa. In bocca al lupo e grazie. Vive il lupo, grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.